Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad Agarest, Generations of War, Generations of War, Generations of War Ration, Generations of War Ration, Fashion, Fashion in War, Generations, vabbè, Agarest, facciamo prima. Ho inserito il joystick, è noto con fantastico piacere che non ci sono i 60 fps, perché vorrei ricordare che Agarest era un gioco, un videogame per le console, e giustamente facciamo i porting come il mio sedere, e quindi non ci sono i 60 fps, va bene, e l'audio gracchia un po', e lo sentirete, new game. Ah, difficoltà, adesso ci dobbiamo rompere il cazzo con 1000 DLC che ho sbloccato, perché ho l'ho preacquistato e quindi ho tutto, sono praticamente un cheater, ho le armi sacre, le mattita nere, quindi niente, ok, mi fa molto piacere, sì, sì, 5 dungeon aggiuntivi, ok, sì, ok. Glugan di Day. Ah, 12. Ah, tipo Naruto, ce n'era uno, se ne sono diventati 12 invece di 9. Ma era un paradiso, che giustamente rifletteva la natura divina, divina, ok. A world of darkness and light split cosmos. Ripeto, non sono io, eh, che sto laggando, è il gioco che va da solo, massimo 60, massimo 30 fps, quindi se lagga non è colpa mia, né di Steam o di altre cose, è del gioco. A dark malevolent force iscrivono, wow. The war broke the chaos in this new war. The gods broke their true strength so bad to fear, to Babu. Babu. Questo è Babu. Quel maiale che vedete che scappa è Babu. Non lo so che se esiste nel gioco, lo chiamerò Babu se esiste. And then the war split, the war came to end as a fate, I guess, what's wrong. But no Sammerill, the lord of darkness. Sammerill. Finisce sta presentazione. The dark lord calls the uncorrupt creatures, no, and the gurgs. Basta. Move face. E poi ovviamente laggiamola. Stai, 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 stai. Le botte, insomma. Aia. Morto. Ah, oh. Noi, va bene, non infiori così. Madonna santa. Matata. Matata. Le botte. Muoio e divento un cristallo. Io sono Leonhardt. Chi è che mi chiama, eh? Stanno aspettando i miei ordini. Gulo, ma questo, quest'uomo così grosso è pacuto. È cazzuto, questa super corazza si aspetta a me. Ma che auto, no? Sto scherzando. Eh, oh? Tutto a posto, signore. Sembri pallido. È malaticcio. Dai. Eh, io sono al capo. Adesso sono riposato. Restless, senza riposo. Ok. Kasibal. Kasibal. È davvero necessario combattere questa guerra? Kasibal. Kasibal. Non ce ne frega niente. Se è necessario o no. Lo dobbiamo fare per forza che ci abbiamo degli ordini. Ok. Cosa, Kasibal? Ma io sempre mi devo preoccupare. Io il protagonista sempre per gli altri se ne preoccupare. Ahia, se non combattiamo adesso soffriranno in molti. Sì. 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 Oi. Vabbè. 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 Kasibal. Kasibal. Dai ordine di muoversi. Andiamo in guerra. Eh. Hey. Questa musica rock. Chi sono quelli? Ogni volo deve stralaggare quando ce ne va via la scritta. Combat training. Do you want to learn about move phase? Yes. Cercherò di fare veloce. Non preoccupatevi. About move phase. Phase. You can move your character during the move phase. Questa è la lista dell'azione. Tipo, prima tocca a me. Poi a Kasibal. Poi al figo. I figoni. E poi i mostri cattivi. Colossus e Safari. I cloni. Character with higher agility. Will take their turn sooner. Eh. Grazie al Kats. The maximum distance they can move depends on their individual move stat. Come un po' come Heroes of Might and Magic. But one AP, action points, required for each square they move. Quindi se c'hai tipo 16 AP, 16 square, se c'hai così ampia l'area. You can see your character's current AP on the upper left side of the screen. You can also opt to not move, so plan accordingly. Sì, stai calmo. Once you set a character's destination, you can choose what direction they'll face. After that, you'll continue to continue on to the next character. A confirmation message will be displayed when you finish moving everyone. And move face, yes, 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 and you can view character's movement range by placing your cursor over them. It's a good idea to keep both the turn in order at the movement range in my old time. Ok, one bit more. Leonard. Che palle ho messo che si gira la visuale, mi sto rincoglionendo. Posso fare così? Con le freccette, ok. Allora, perché dovrei andare lì? Vabbè. Vabbè. Tu muoviti là. Sì. Iyaaah. Già sono arrivati questi. Ma io non mi son mosso. Noi non mi sono arrivati, ma io non mi sono arrivati. Noi non mi sono arrivati. Combat training. Do you want to lean about the action phase? Ma certamente. About the action phase. After the move phase end, action phase begins. Here, the turn order is determined by a character's energy and remaining AP. So, even if someone has low energy, you can make them act sooner by saving AP. Ah, ok. Skill. Shot. Combat training. Do you want to lean about skills? Yes. About skills. After selecting a command in the skill menu, you can pick your target. However, the area you can select is based on a particular skill's range. Select the enemies who's in range to perform an offensive skill. Likewise, select the party member who's in range to use a super team skill like heal. Double edge, sonic wave, power attack, covelling blade. Activation of a skill requires a certain amount of AP which are shown on the right side of the window. Okay, as long as you have enough AP, you can activate a series of skills. Ah, quindi a series of 20.000 AP, un macello di skill intenso, gli sputos, un cadavere, i calci sulle palle. In addition, arts will be activated if you use a certain skill in order. Arts are more effective than normal skills. If you activate them in a battle, they'll be displayed in a tree on the right side in the window. Broken hit, with power attack and double edge. But it's both from me and from Parsifal. You can learn more about which skill unlock arts by obtaining the secret arts books. Thank you to cats. Okay. Attack them. SonicWay. AP, I say. Ma non abbiamo gli AP. Quindi, che vuoi? Ah, sotto c'è il range. Ok. Che cazzo c'è? AP 18? Start attack. Perché non posso fare l'attacco? Salta il tusso. Ah. Ah, mo' si poteva farvi, ma no. Attack. Wow. Fratello. Ligarawa. Scappa in giapponese. Una cosa del genere. Leonhard took down from the soldier. Blah, blah. Leonhard overkilled from soldier and got silver ore. Adesso le botte. Combat trade. Do you want to learn about standing by? No. Che non lo so che è standing by. Tipo, non faccio niente. Eh, quanto c'ho? AP. Standing... Standing by. Fine. Allora. O Parsifal. Kasibal. Darbidal. Le botte. Fire. Non riesco a trovare il tasto dell'attacco. Su. Non mi ricordo. Ah, ok. Nani. Cosa? Ma cosa? Non ti ho fatto un cazzo. Ma che palle. Ah, sì, eh? Pezzo di merda. No. Non posso fare niente. Stand by. Tu. Skill. Sì, tu. Su. Skill. Su questo. Double edge. Questo, Rush. Wow. Provo a cacare. Ok. Standing by. Skill. Debolemo anche quel tonto. Non posso. Sì. E vai. Standing by. Tutti che si guardano durante il combattimento. Aia. Ma non mi fai un cazzo. Ridicolo. Eh, Parsifal è abbastanza deboluccio, eh. Move face lag. Ah no, mo si è risolto. Bene. Beh, meglio. Allora. Ho 22 AP e mo ti spacco il culo. Sappilo. Ah, il movimento. No, lascia bene. Non mi ricordo. Ah, ok. Il movimento. Guarda, non c'è. Non ci riusciamo a muovere. Ok. Se solo ci riusciamo solo a girare. Quello di cresce la mente. È sempre più intelligente. Allora. No, su di te. Su di qua. Blast. Attack. È crepa, mo. Puttana. Non è morto. Che palle. Ah, sì, mo. Eh, tutti. Ah, giusto, sono cloni. Oh. Ho preso un filo d'erba. Wow. Stand by. Oh, mo ci ride. Mo ci ride. Sì. Sia tutti perduti. Power. Yeah. Sciala troia. Nigerò. Anch'io ho preso dell'erba, sai. E non è finita qui. Coglione. Sonic way. Ne ho anche per te laggiù. Beh, non gli ho fatto tanto però. Basta. Standing by. Ma no. Tonto. Qua ci arriva. Sì, ok. Blast. Ammazzalo tu, dai. Prenditelo sto merito. Oh, che forte è quello. A differenza di quell'altro tonto che non ce la fa arrivà. Tampo fa due pa... Nigerò. 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 E vai. Anche lui prende l'erba. E questa bella signorina, chi è? Madonna santa. Tra l'altro... Ah. Madè! Potrei fare il doppiatore. Arriva l'eroe. Eccolo. Musaka. Where do you point your sword? I don't try. Eh? Schifoso. Guarda che faccia di me. Ma è Gordon. Gordon Ramsay. Gordon. Gordon. Su. Gordon. Eh, certo. È un elfa, quindi... Tronchiamola. Ma non è vero. Gli elfi sono buoni. Stronzo. Quali. Sono così. Non c'è il futuro. Non c'è un maestro. Questo è l'esercito. Non c'è il futuro. È un po' più di un'invasione. Non c'è l'esercito. Grazie. Sei, sei malvagio dentro, Gordon Aia, aia E le botte Sei stato sfidato, Gordon Te zitto Ancora parli Aia, aia Aia Già faccio conquista Mi dispiace, Bukasa, Musaka Volevo dire Gordon Perché non l'ho io to do this Posso permetterti di farlo Vai col combattimento Vai 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 Faccela Eh, certo 3 contro 1 Mi sembra giusto Ma non mi fate ridere And move phase Yes Action phase Faccio un macello Volevo vedere Oh Allora, skill Vediamo se c'è una skill ad area Su di te, Mukasa, Musaka Qua è Sonic Wave Fa male a tutti E costa un sacco infatti Vai 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 Ma non li ho presi gli altri Cazzo Ah, li cresce la mente Gordon Oh, madonna santa Forse dovrei allontanarmi un po', vero? Sì Che che non mi togliete un cazzo Ma quello fa male Fa una frega male Ti mi metto qui E ti insulto da lontano Che ne dici, eh? Bagliaccio Oh No Figli di troia Hiders E fammi vedere un attimo, dai About ideas You can use here during battle Affinque ci siamo Tipo la pozza Fragment of life You won't have any Any at the beginning of the game Forse Items can be purchased At the shops Attain from the beginning Ah, che palle Visiamo adesso volessi usare un item, no? Dovrei andare Item E questo Grass Che fa? Un herb with healing power Restorbe il 25% del character Oh Ma non serve Skill Facciamo un attacco tipo questo Attento non gli faccio niente Agli altri Anche con Con l'area Oh È così morto Stai calmo Dopodiché Item No, lo faccio dopo Anche perché non posso Ok Stand by Calmi Ragazzi, dai Stavo a scherz Ragà Stavo a scherzà Oh Madonna Che violenza Allora 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 Dove me ne posso andare Tipo Ah, posso vedere Il suo Madonna Che range Che c'ha Dietreggiassi un attimino No No No, mi sto qua Wow Ok Mukasa Ti è rimasto poco Power attack Double edge Che sono due attacchi Perché quei costi di più? Perché Secondo me quei fa più danno Attacchiamo con questo dai No Item 11 AP Posso fare andra skill Sì Ti saluto Ti saluto Mukasa Tipo che bastava ammazzare quello e basta Giusto No Uh Preso l'erba Quando ci vuole 8 Stand by No raga stava scherzando Ma non l'ho veramente ucciso E' andato via No Deva cagà Dai oh Calmi Calmi Mi sto mettendo nervoso Mi sto mettendo nervoso Mi so venire nervoso No allo Che so ste crisi Mo di bo Tutti a fare gli svelti Perché non ci sei Il vostro capitano Parte che muovi scoppio In una maniera che non si è vista Che non si è vista mai No mi sto qua Mi sembra lontano Per la tua azione Oh Cazzo di schioppa patente Item Yeah Arrivederci Arrivederci Prego Ho finito Ah Dato che non mi muovo C'è più 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 ap Ok adesso mi torna Perché c'è 19 ap Skill Allora tu probabilmente muori Con power attack Però stavolta farò Double edge Oh Sì cazzo C'è dell'altro Stavo parlando con te Che mi sei alle spalle L'urido vigliacco di merda Oh Cristo che botta Standing by Ho vinto Sì sì Fai lo svelto Fai Fai Insomma mi dicono Che sei morto anche No giusto Sei giusto Sei giusto Il prezzo è giusto Action phase Ok mi calo la vita Pieno piano Escape Howling Blade Wow Shalabado Già è rimasto niente Rank E Level A Che è Cazzo Oh 10 punti L'amado Agility Want to save your progress Allora adesso salviamo E ci vediamo al prossimo episodio Perché penso che ne farò più di uno Anche se non li volete vedere Eh? Eh? Comunque se vi piace Mettete mi piace O iscrivetevi per far parte anche voi Dell'offline community Quindi per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo Ciao Ciao